Dubbi e preoccupazioni l'attesa di un protocollo che definisca regole e comportamenti. Se la regione Abruzzo ha l'obiettivo di riaprire la stagione balneare il prossimo primo giugno, il settore turistico e dunque anche quello riguardante il mare in tutte le sue forme è tra quelli più colpiti e che vive una fase di incertezza totale rispetto al suo futuro prossimo. L'assessore al turismo Mauro Febbo ha convocato per giovedì prossimo i rappresentanti di una categoria che rappresenta la parte più consistente del turismo abruzzese, se è vero che l'80% del totale è quello del mare. Il giorno prima l'Istituto Superiore della Sanità esprimerà il suo parere sulla riapertura degli stabilimenti, dettando precise regole sul rigore scientifico. Sicuramente ci saranno distanze maggiori tra gli ombrelloni, possibili turnazioni, sanificazioni di lettini e toilette, controlli su eventuali assembramenti. Peppino Susi, presidente di FIBA Confesercenti. La questione è un po' più complessa, siamo obbligati a riaprire, se si deve ripartire convivendo con il Covid come si può immaginare una stagione estiva con le spiagge chiuse. Questo è inimmaginabile, impensabile, quindi in qualche modo noi abbiamo il dovere nei confronti della collettività di riaprire. Distanze sicuramente ci dovranno essere e aspettiamo le indicazioni per capire poi come organizzarci. Sanificazioni, cerchiamo di capire se sono necessarie e quali sono le linee guida, perché sulle sanificazioni l'aspetto più importante sono le linee guida che immagino usciranno a breve, perché ci devono dare il tempo per organizzarci, per attrezzarci, per fare tutto il lavoro preparatorio che è necessario per riaprire in sicurezza e garantire a tutti quanti la fruizione della spiaggia in sicurezza. Altro serio problema, quello delle spiagge libere. Ci potrebbero infatti essere assembramenti e dunque criticità. Escluso il controllo da parte degli addetti agli stabilimenti confinanti, visto che non esiste nessuna disposizione normativa e giuridica in merito, la vigilanza spetterebbe a Polizia Municipale e Forze dell'Ordine. Non si esclude l'utilizzo di Stuart. Le spiagge libere forse è uno degli argomenti più complessi, perché la gestione delle spiagge attrezzate vengono garantite dai balneatori. Per le spiagge libere ad adesso non c'è niente di immaginato, di pensato. C'è De Luca in campagna che le vuole chiudere, faccio un esempio. Però è chiaro che bisogna pensare ad una soluzione e bisogna trovare una soluzione, perché le spiagge sono il simbolo della ripartenza e della voglia di ricominciare a vivere che abbiamo tutti quanti noi. E poi i bar, i ristoranti, i gelati, le pizze, le pizzette e via dicendo. Le distanze non si accorciano. E allora quale futuro? Limitare gli ingressi, limitare gli accessi ai bar, alle varie strutture. Quindi è chiaro che per favorire tutti quanti è necessario implementare tutte le forme che c'erano in precedenza. Quindi molto asporto, anche perché molti preferiranno consumare sotto l'ombrellone l'insicurezza e un servizio sotto gli ombrelloni.